Bentornati su Informaticaso. Oggi impareremo l'Internet Protocol in soli due minuti. Cominciamo. L'Internet Protocol è stato introdotto negli anni 70 per scambiare informazioni tra dispositivi. Si basa sul concetto di indirizzo, ovvero una serie di 4 byte separati da un punto. Un byte è composto da 8 bit. In 4 byte avremo quindi 32 bit. Ovvero una serie di 1 e 0 che rappresentano il formato binario con cui ragionano tutti i calcolatori. Per comunicare, due host di una stessa rete devono avere un indirizzo IP univoco. Per convertire un indirizzo dal formato decimale a binario, basta affiancare a ciascuna sequenza di 8 bit le potenze di 2 in modo decrescente. Sommando tra loro soltanto le potenze dove il bit è settato ad 1. Tale approccio, ci permetterà di convertire rapidamente anche gli altri 3 byte del nostro indirizzo di esempio. Attenzione. Poiché un calcolatore è un dispositivo elettronico, ogni bit settato ad 1 si traduce in realtà in un impulso elettrico, che il nostro computer interpreta come un'informazione. Oltre all'indirizzo IP, la configurazione di rete di un host, si compone anche della subnet mask. La subnet mask ha il compito di identificare l'indirizzo di rete a cui il PC appartiene. Le notazioni binarie di indirizzo IP e subnet, vengono messe in end. Il risultato sarà uguale a 1 soltanto quando entrambi i bit a confronto varranno 1. E permetterà di ricavare l'indirizzo di rete a cui il nostro PC appartiene. Avendo tutti i bit impostati sequenzialmente ad 1, la sottomaschera di rete divide l'indirizzo IP in due parti. La prima identifica la rete, e la seconda i bit dedicati agli indirizzi host. La messa in end tra IP e subnet, permette di capire se il dispositivo con cui si vuole comunicare, appartiene alla nostra rete oppure no. Oltre ad IP e subnet, il terzo ed ultimo elemento fondamentale della configurazione di rete è il default gateway. Chiamato anche router, è un dispositivo dotato di più porte di collegamento che permettono ad host di reti differenti di poter comunicare. Il default gateway dispone di una cosiddetta tabella di routing contenente gli indirizzi di tutti gli host ad esso collegati. Ciascuna porta del router, ha un indirizzo IP della stessa rete degli host a cui è connesso. Ciascun host deve avere nella sua configurazione l'indirizzo del default gateway. In pratica, un host può comunicare direttamente con un altro della sua stessa rete, è invece obbligato a passare per il router se l'host di destinazione appartiene ad un'altra rete. Bene, se il video vi è piaciuto mettete un like. Alla prossima, su Informaticaso.